La situazione sta cominciando ad essere veramente difficile e quindi abbiamo ancora qualche settimana di autonomia dopodiché dobbiamo sperare che ovviamente ci sia qualche perturbazione e quindi che piova in sostanza perché altrimenti il rischio è di dover razionare l'acqua anche per quanto riguarda l'uso umano e non soltanto per l'uso agricolo e zootecnico. Quello che sembrava uno spauracchio ora è un'ipotesi sul tavolo. Anche per questo il presidente della regione Luca Zai ha emanato la nuova ordinanza per far fronte all'emergenza siccità. Due eleazioni, con la prima si attribuisce ai sindaci veneti la facoltà di adottare ordinanze locali per chiudere le fontane pubbliche con la seconda invece si introduce l'autorizzazione alla deroga del deflusso minimo vitale, tema tra i più dibattuti. Se questo capiamo essere importanti per quanto riguarda la fauna e la flora selvatica però dobbiamo anche capire che se non interveniamo su questo noi rischiamo a breve di essere senza acqua per l'agricoltura. Nel documento firmato dal presidente Zaia si parla di un generale peggioramento del quadro complessivo con situazioni particolarmente gravose nei distretti del Brenta e del territorio orientale della regione. Preoccupa la risalita del cuneo salino sia lungo il Po che l'Enladige.